Il primo relatore che abbiamo questa mattina è Maurizio Asti, che è Human Resources Manager Southeast Europe di 3M. Buongiorno dottor Asti, è anche un nostro autore, ha scritto un articolo sulla nostra rivista Persone e Conoscenze, sul numero di febbraio, ecco il sottotitolo dell'articolo Per vincere le sfide serve una vision condivisa, ecco adesso andiamo ad approfondire questo ragionamento, però come vedremo con il dottor Asti è il momento questo di superare dei modelli rigidi, quindi è chiaro che ogni azienda avrà dei parametri personalizzati e quindi all'interno di questi parametri bisogna considerare dei concetti come l'agility, l'inclusione, il coaching, la nuova leadership, insomma ciò che andiamo a misurare davvero ampia il suo aspetto. Dottor Asti. Ma allora, mi sono trovato moltissimo peraltro nell'introduzione del professor Rebora prima, anche perché di fatto ha toccato diversi dei punti che in qualche modo abbiamo affrontato nelle nostre riflessioni come aziende nel corso degli ultimi anni, quindi si parlava sostanzialmente di un collasso del sistema delle performance, ma in realtà sono molti i processi che sono collassati negli ultimi anni e non necessariamente in relazione alla crisi pandemica, diciamo che la realtà che tutti quanti conosciamo, la realtà di business, la realtà dell'evoluzione della società, della società, le innovazioni tecnologiche ci portano sistematicamente a dover ripensare al modo in cui facciamo aziende, in cui facciamo imprese e soprattutto, visto che poi l'impresa è in qualche modo un'organizzazione sociale, al modo in cui ci interfacciamo con i nostri collaboratori. Tuttavia, una premessa è doverosa, io sono molto laico in merito alla scelta dei modelli organizzativi, perché dal mio punto di vista rispondono alla situazione specifica che ogni azienda ha, quindi modelli più tradizionali possono tranquillamente avere senso in realtà aziendali che hanno esigenze tali da richiedere quel tipo di modello. La cultura aziendale particolarmente segna un elemento determinante nella tipologia di rapporto che si viene a sviluppare con il collaboratore e conseguentemente anche per quanto riguarda il tipo di performance management che si decide di introdurre. 3M è un'azienda, giusto per entrare un po' nel vivo della discussione, estremamente complessa. È una multinazionale americana presente in circa 70 paesi nel mondo con 90.000 dipendenti che insiste su quattro mercati diversi, dalla salute all'aeroconsumo, all'industria, ai trasporti, al mercato elettrico. Ha più di 30 divisioni all'interno della sua organizzazione, 50 piattaforme tecnologiche. In sintesi, queste consentono di produrre e ideare decine di migliaia di prodotti con peraltro un tasso di innovazione altissimo anno su anno. È un'azienda che da sempre ha innovato da un punto di vista sia delle tecnologie che ha imparato a gestire, ha messo sul mercato, ha messo a disposizione sui clienti, ma ha innovato anche per quanto riguarda lo stile di leadership, ha innovato per quanto riguarda il modo di affrontare il rapporto tra management e collaboratori. Già nei primi anni 50 si parlava di un concetto di delega diffusa basata sulla fiducia, nel momento in cui sostanzialmente l'azienda è diventata da un'azienda puramente americana, da un'azienda internazionale, quindi c'era la necessità di adottare un modello che oggi definiremo più agile, più flessibile. È un'azienda che comunque sia nel corso degli anni si è dovuta strutturare soprattutto negli ultimi 15-20 anni, ponendo forte attenzione sulla standardizzazione dei processi per tenere insieme gli asset che aveva e per poter parlare una lingua comune in tutti i paesi ed in tutte le organizzazioni alle quali operava. Era una scelta di campo, una scelta culturale, una scelta del management che chiaramente ha avuto poi tutte le implicazioni sui processi a valle. Non ultimo, naturalmente, i processi di performance management. ha creato una forte cultura dell'execution, quindi le strategie venivano definite a diversi livelli, a livello centrale, a livello globale, a livello locale e poi tramite la catena organizzativa, tramite l'organizzazione, venivano implementati. Questo naturalmente attraverso un sistema, direi, piuttosto tradizionale che nel corso degli anni si è obiettivamente modificato con cambiamenti incrementali, se vogliamo, non distruttivi, ma che vedeva l'assegnazione all'inizio dell'anno, come si diceva prima, di obiettivi e poi si può naturalmente discutere sulla complessità degli obiettivi legati alla matrice che si era venuta a costituire, un check a metà anno sull'andamento della situazione e poi un processo di review complessivo che portava attraverso diversi momenti di condivisione con diversi livelli di leadership a definire quello che si riteneva essere il giusto riconoscimento al collaboratore espresso tipicamente attraverso un rating che doveva poi essere in qualche modo sostanziato attraverso un feedback, se ne parlava prima, un feedback che doveva essere costruttivo e portare in qualche modo allo sviluppo del proprio collaboratore e evidentemente ad una forma di rewarding attraverso un incremento di merito, la valutazione di un potenziale e quant'altro. Bene, questo è il modello che è andato avanti fino all'altro ieri, fino a quattro anni fa direi e che come l'azienda è poi è stato in qualche modo sfidato dalla situazione nella quale ci siamo trovati ad operare. Situazione che qui devo però chiarire non ha riguardato la presa d'atto della pandemia. Chiaramente noi la variazione dei modelli organizzativi e il cambiamento aziendale l'abbiamo intrapreso a seguito di una constatazione che è venuta ben prima dell'affrontare le conseguenze del cigno nero, della pandemia che abbiamo affrontato lo scorso anno. L'azienda si era più volte interrogata sulla necessità di ripensare la propria struttura organizzativa, di ripensare il modo di operare e l'ha fatto, devo dire la verità, ad un certo punto con cambiamenti progressivi, introduzioni di nuovi modelli organizzativi, inseguendo magari quello che stava succedendo sul mercato fino al punto in cui ci si è resi conto che era necessario fare un passaggio decisamente più deciso e decisamente più maturo, mi permetterei di dire. E l'ha fatto pensando che le strutture organizzative e conseguentemente i processi dovessero essere essi stessi un elemento di cambiamento e non tali da seguire il cambiamento. E quindi ha cominciato a riflettere in particolare sulla cultura che l'azienda si voleva dare per poter avviare un meccanismo di cambiamento, direi. E l'ha fatto sviluppando un nuovo patto tra azienda e collaboratore e chiedendo direttamente ai collaboratori quali fossero gli elementi culturali che ritenevano estremamente importanti e che rappresentassero un valore aggiunto non soltanto per i lavoratori stessi ma per l'insieme degli stakeholder esterni. Questo ha portato a ridefinire un set di principi, ridefinire un set di valori, noi li chiamiamo elementi culturali che se per certi aspetti vedono la conferma o il miglioramento di alcuni di questi, ovviamente l'attenzione al cliente, la ferma attenzione alla compliance e alla sostenibilità, ha poi portato ad un livello decisamente più alto la centralità delle persone come asset, non che prima fosse negletto questo aspetto, ma l'ha portato ad un livello persin superiore, focalizzandosi su tre elementi, un elemento di inclusione che è stato ulteriormente rafforzato ed è diventato veramente il centro del rapporto tra azienda e collaboratori, l'elemento dell'agilità e l'elemento dell'innovazione che peraltro è sempre stato in qualche modo nel DNA della nostra azienda. L'azienda conseguentemente sulla base di questo ha cominciato a educare, passiamo questa terminologia, a fare una riflessione collettiva con i propri collaboratori sul significato degli elementi culturali, a darsi una struttura che fosse sempre più agile in cui tutta una serie di processi venivano meno e a porsi ad un certo punto come conseguenza di tutto questo una riflessione in merito ai sistemi di performance dove esattamente per performance si intende quello che si diceva prima, l'abilità di consegnare in qualche modo un risultato, l'agire e ha ribaltato i canoni facendo una scelta di campo molto precisa. Peraltro una scelta di campo che anche in questo caso è partita dal basso. Certo, benchmarking esterno è stato utile confrontarsi con altre blue chips e altre aziende del settore per capire come stava evolvendo anche presso di loro il modello di valutazione della performance, ma poi si è partiti dal basso anche in questo caso con un crowdsourcing che ha ricevuto migliaia di risposte in cui si sono raccolti elementi che hanno portato a mettere sul tavolo un modello di performance completamente diverso in cui al centro dell'attenzione c'è il rapporto tra collaboratore e capo, un rapporto che prescinde dai momenti formali di cui si parlava prima, un rapporto che vede un dialogo costante e noi raccomandiamo ai nostri colleghi e tracciamo francamente con tutti i nostri collaboratori affinché abbiano almeno un momento di discussione al mese con i propri collaboratori, ma dove al centro della discussione non c'è più il dato numerico, il dato numerico è l'elemento marginale, al centro della discussione c'è l'allineamento, ovviamente, la rivalutazione eventualmente della situazione di contorno che può portare ad uno spostamento dell'agito, ma soprattutto lo sviluppo del collaboratore. Per poter fare un passaggio di questo genere chiaramente è necessario cambiare però il paradigma legato alla supervisione, passando cioè da una logica di supervisore giudice, usiamo questo termine, ad una logica di supervisore di supporto, quindi come ti posso aiutare, per arrivare poi alla fine in quello che è il nostro end state, ad una logica di supervisore coach. come pensi di raggiungere quell'obiettivo e nel caso come ti posso aiutare a riflettere su come raggiungere questo obiettivo. L'altro elemento che per noi è stato fondamentale e ritorno all'importanza della cultura in questo senso, è che il sistema di performance è diventato anche un sistema di change management. In un momento in cui è necessario fare una transizione culturale particolarmente importante, gli indicatori che vengono considerati non sono solo esclusivamente indicatori, e poi tra l'altro non si parla più di indicatori, non ci sono più rating, c'è un giudizio se vogliamo che viene espresso alla fine del percorso, sono indicatori che tengono in considerazione lo sforzo che il dipendente fa più che il risultato, e chiaro, il risultato conta, non possiamo voglio dire dimenticarlo perché altrimenti voglio dire abdicheremo il nostro ruolo di azienda che deve soddisfare le esigenze del mercato, dei clienti e chiaramente degli azionisti, ma soprattutto quello che diventa importante è come si interpreta il proprio ruolo alla luce degli elementi culturali di cui parlavo prima, e quindi il dipendente è aiutato a riflettere da parte del proprio capo anche sul modo in cui si portano a casa determinati obiettivi e quanto questo sia consistente con i principi di etica, di sostenibilità, di attenzione al cliente, di innovazione, di inclusione e di agilità che sono diventati il nostro cardine. Questo non è un percorso semplice, è un percorso estremamente complesso, difficile, che restituisce al supervisore un'autorevolezza nella gestione del proprio collaboratore che in qualche modo veniva meno attraverso un sistema molto meccanico che ha mostrato il fianco per tutte le motivazioni di cui abbiamo parlato prima, lo responsabilizza, ma che responsabilizza l'azienda nella necessità di selezionare i supervisori giusti in prima battuta e dar loro la possibilità di crescere in questo modello. Qui entrano in gioco naturalmente fattori come l'abilità di essere dei coach e non si diventa coach dalla mattina alla sera, ci sono dei percorsi importanti da fare per poter prendere gli strumenti e, voglio dire, avere la sensibilità, sviluppare la sensibilità per essere coach. C'è tutta la logica del growth mindset, se ne parlava pochi minuti fa, tutti abbiamo un potenziale e si tratta di esplorarlo, ma farlo capire a persone che naturalmente spesso e volentieri sono focalizzate al risultato non è così semplice. Ultimo, ma non ultimo, l'abilità di creare è un ambiente psicologicamente sicuro in cui il rapporto tra capo e collaboratore sia un rapporto trasparente, sincero, sicuro, in cui lo scontro, il confronto possa essere come dire, portato in alcuni casi anche allo scontro di temi, tematiche, considerazioni molto forti, ma sempre in un'ottica costruttiva e se non c'è questo ambiente psicologicamente sicuro, se il capo non si fida del collaboratore, il collaboratore non si fida del capo, se si teme che ci possano essere ritorsioni, ebbene, il modello non sta in piedi. È per questa motivazione che da subito un modello di questo tipo ha avuto la necessità di essere accompagnato con strumenti di supporto sia ai colleghi, ai collaboratori che alla linea di supervisione attraverso sessioni di group coaching, attraverso momenti di profonda riflessione, attraverso momenti di confronto in cui i vari capi, i vari supervisori portavano in qualche modo all'attenzione nostra, all'attenzione dell'azienda, tutte le perplessità e tutte le difficoltà che hanno avuto nel mettere in campo un modello di questo genere. C'è da dire però che avendo fatto un passaggio di questo genere e ripeto, è una scelta di campo che alcune aziende fanno e che altre non fanno e va bene, va bene sia che se ne faccia una sia che si faccia l'altra scelta. Noi l'abbiamo fatta alla luce delle considerazioni di prima, è cambiata l'azienda, è cambiato il contesto di contorno, è cambiata la cultura o comunque sia abbiamo rafforzato la cultura. Era importante per noi dare un segno di coerenza rispetto al fatto che se il mondo è così volatile rimanere fermi a modelli meccanicistici poteva essere un elemento di scarso engagement e quindi era necessario rivoluzionare questo modello di performance. Abbiamo interpretato la performance come effettivamente l'abilità di fare delivery, l'abilità di consegnare, l'abilità di crescere e quindi l'abbiamo incorporato in questo modello ma ancora una volta è un passaggio che ha richiesto step complessi e che ci ha comunque sia restituito poi la possibilità di entrare e affrontare le crisi ultime, la crisi pandemica devo dire con una consapevolezza di tipo diverso. Il fatto che si fosse sviluppato un certo tipo di dialogo, un certo tipo di rapporto tra capo e collaboratori indipendentemente della geografia perché non ho parlato del cambiamento del modello organizzativo non era questa la sede ma è venuta meno un po' la dimensione geografica a favore di una dimensione più di business e quindi molti collaboratori hanno perso il riferimento locale hanno cominciato ad avere riferimento internazionale e quindi c'era tutta la tematica del remote management. Ecco, il nuovo modello, il nuovo meccanismo, la nuova filosofia aveva già portato in qualche modo a concepire logiche di gestione del rapporto tra capo e collaboratore in remoto. Quindi con la pandemia dove io sono a casa come potete vedere tutti quanti dal 23 di febbraio hanno cominciato a lavorare da casa, come dire, tutto questo è stato decisamente più semplice. Ma è stato anche più semplice poi, come dire, liberare una serie di energie e portare i dipendenti a dire la loro in una maniera assolutamente inclusiva rispetto alle loro aspettative nei confronti del management. Noi abbiamo avviato quel grande momento di riflessione di cui si parlava prima e di cui ho parlato nell'articolo di cui si faceva riferimento prima, cioè quello che noi abbiamo chiamato il nostro viaggio, insomma, un momento di riflessione collettiva nel quale era emerso che tipo di leadership i nostri dipendenti volevano ed è emerso che volevano una leadership come dire che fosse presente, che fosse come dire autorevole, che fosse carismatica, che fosse umile, che fosse vulnerabile e abbiamo conseguentemente cominciato a lavorare ed è il nuovo percorso che stiamo cominciando proprio in questi giorni su quello che noi chiamiamo il new managerial style, quindi il nuovo stile manageriale, il nuovo stile di leadership che la nostra azienda si deve come dire deve acquisire, i nostri leader devono acquisire per poter affrontare le sfide del post-pandemic a questo punto. Quindi in questo caso quello che mi sento di portare è il fatto che i modelli cambiano, cambiano sulla base delle scelte culturali, organizzative che le aziende fanno, sono un potente catalizzatore di cambiamento e sono diventati dal nostro punto di vista un incredibile strumento per definire un nuovo rapporto tra capo e collaboratore ma soprattutto un nuovo rapporto tra l'azienda e i propri collaboratori. Diciamo che il parallelo col mondo tecnologico è assolutamente pertinente come le aziende che avevano convintamente investito in innovazione tecnologica non sono non sono state accolte impreparate dalla pandemia così chi aveva già ragionato ad un'evoluzione dei modelli organizzativi come dire non ha fatto altro che consolidare un percorso di cambiamento e questo è quello che ci ha narrato in maniera molto molto chiara. Ecco io naturalmente invito tutti i nostri spettatori che ci stanno ascoltando se ci sono domande considerazioni a scriverci nella nostra chat insomma abbiamo il nostro relatore a disposizione quindi se avete delle domande ci farà piacere interagire con voi. Ecco lei ha detto che insomma certamente non è stato un percorso semplice ma c'è qualcosa che possiamo che possiamo ricordare una difficoltà particolare o un momento del percorso che possiamo evidenziare come particolarmente significativo certamente il cambio della relazione capo collaboratore è certamente un passaggio di grande rilevanza in questo in questa giornata e così come è stata chiamata anche nel nostro articolo però ecco c'è qualcosa in particolare che possiamo evidenziare? Ma allora noi come dicevo prima abbiamo cercato di dare delle risposte alle nostre persone quindi in qualche modo c'era un sentito un percepito che che veniva dall'organizzazione che veniva dalle strutture quindi devo dire che gli sforzi che i vari leader i vari amministratori delegati i vari responsabili di divisione di funzione hanno fatto nell'avvicinarsi verso diciamo così le proprie persone in una modalità d'ascolto insomma sono state ben accolte ma hanno rappresentato davvero un momento come dire di di cambiamento percepito a volte in maniera un po' scioccante insomma quando ad un certo punto tu cambi radicalmente approccio c'è sempre la curva del cambiamento indipendentemente dal fatto che tu faccia una cosa che possa essere percepita negativamente o una cosa che possa essere percepita positivamente la cosa buona è stata che lo si è fatta tramite il massimo coinvolgimento dei collaboratori quindi in maniera assolutamente trasparente e dando seguito a richieste quindi questo ha reso se vogliamo i flessi e le curve della curva del cambiamento un pochino più stabili ancora una volta però devo dire la verità almeno nel mio caso quello che ho notato come si accennava prima la bontà dell'operazione è stata capita ex post cioè la pandemia ha rappresentato da questo punto di vista un elemento un acceleratore di processi o meglio un acceleratore di presa di consapevolezza che le cose si possono fare in una maniera di tipo diverso e ha sbloccato la resistenza al cambiamento che molti naturalmente hanno quindi noi vabbè poi il percorso sul change manager sul grow mindset e quindi sul cambiamento di prospettiva l'avevamo già fatto è un elemento culturale che noi avevamo già vissuto ma quello ha rappresentato veramente lo shift necessario per poter capire far capire alle persone ai supervisori quanto fosse importante tutto quello che avevamo seminato nel passato sia in termini di tecnologia che in termini di cultura chiarissimo è arrivata una domanda poi c'è anche qui il nostro direttore Remora che ci può aiutare un'ascoltatrice si dice che non si parla più di rating ma di giudizio come viene legato il sistema incentivante a un sistema di performance management così strutturato? Allora parlo di giudizio perché di fatto noi lo chiamiamo blended judgment nel senso che all'interno componenti che riguardano sia l'abilità del collaboratore di dimostrare come dire di sapersi comportare secondo quelli che sono i criteri i canoni gli elementi culturali di cui parlavo prima che l'abilità di saper interpretare gli obiettivi e di saperli e di saperli realizzare quindi non siamo più di fronte ad un rating ma siamo di fronte come dicevo prima ad un ad un giudizio nel quale nell'ambito di una gamma di raccomandazioni si trova quella più vicina a quanto il collaboratore ha portato a casa peraltro giusto per dare chiarezza su quello che sto dicendo per fare chiarezza su quello che sto dicendo ci possono essere tranquillamente e questo è da scuola da manuale insomma persone che non hanno portato a casa i risultati come dire di business ma che hanno portato a casa eccellenti risultati in termini comportamentali essendo champions di quelli che noi definiamo essere i nostri valori culturali che portano a casa giudizi molto positivi che portano poi in una fase successiva ad avere riconoscimenti in termini economici decisamente più alti di chi magari ha portato a casa tutti gli obiettivi di business ma ha mancato nel dimostrare inclusione agilità e quant'altro conseguentemente non porta a casa nessun tipo di risultato chiarissimo guardi abbiamo un'altra riflessione molto interessante le chiedo di essere telegrafico perché vedo che il tempo scorre l'ascoltatrice ci dice ci cita il concetto di leadership umile e vulnerabile e ci chiede se può darci qualche riflessione in più su come hanno reagito i manager ad abbracciare questo concetto umile e vulnerabile cioè il manager deve scendere dal piedistallo sostanzialmente deve essere alla portata di tutti quanti io personalmente pur essendo il direttore del personale penso a quello che avrebbero fatto molti dei miei predecessori non gli ultimi perché comunque si avevano già metto uno stile molto vicino alle popolazioni ma se guardo qualche anno fa sarebbe stato diverso io una volta alla settimana ho incontri con chiunque indipendentemente dalla scala gerarchica e chiedo come vanno le cose chiedo loro di contattarmi se hanno problemi li metto nelle condizioni di parlare di tutto quello che può riguardare loro mi mostro le mie emozioni sono contento quando loro mostrano le loro emozioni a me e si crea un rapporto empatico e di psychological safety come dicevo prima che consente poi di far uscire chi siamo veramente quindi mi riferisco veramente a questo quindi un leader che non ha più bisogno fondamentalmente dello status per dimostrare la sua abilità nel portare a casa i risultati ed avere un team che lo segue un leader che lo fa perché utilizza l'empatia e utilizza la prossimità con le proprie persone indipendentemente da dove siano cosa facciano e che cosa gli vogliono raccontare ecco difficilmente potrebbe essere un algoritmo a sostituirla quindi mi sembra questa è una riflessione molto molto pertinente la prossimità è una riflessione